Ricordiamo che la favorita è Determination con Dario Vargi in sella. Tutto pronto, partiti i cavalli della terza corsa. Parte bene dall'interno tenuta ma ancora più veloce è Determination, che come dice il nome è determinata a prendere la leadership. Seconda posizione occupata da Avelot, uno dei contro favoriti. Terza invece per Jens Giulia, precedere proprio la stessa tenuta, Improved Talk, Havana Color, Swinging Lady e poi a completare il quadro, Pleasant King. Prima parte di gara affrontata con andatura regolare, con il gruppo che si è sfilacciato, sempre Determination in vantaggio nei confronti di Avelot, poi ancora tenuta, Jens Giulia, Improved Talk, a precedere la coppia formata da Havana Color e Swinging Lady, ancora a chiudere il gruppo, Pleasant King. Siamo di là, retta opposta con Avelot, che va a premere anche se non in maniera completamente decisa su Determination, che è comunque ancora in vantaggio da favorita. Terza posizione occupata dalla tedesca, una delle due tedesche in particolare tenuta, precedere ancora Swinging Lady, che è quella che galoppa in quinta posizione, vicino a Improved Talk, Havana Color e Pleasant King, che ha guadagnato qualche posizione con Jens Giulia, gruppo che si è ricompattato. In questo momento sono tutti gli otto partecipanti nel giro di tre lunghezze, Determination, che è subito chiamata maggiore impegno, perché Avelot preme, tenuta che fa la stessa cosa, poi dall'esterno ci prova subito lo stesso Pleasant King, con Jens Giulia, Improved Talk, Havana Color, Swinging Lady a completare il quadro. Siamo in dirittura d'arrivo, Dario Vargiù che si guarda alle spalle, perché per ora sta controllando, anche se Avelot si fa minaccioso, in un paio di tempi di galoppo, però Determination ha preso lo steccato opposto e un paio di lunghezze. Dall'interno c'è Improved Talk, Avelot ancora vitale, poi la tedesca tenuta, cerca di mettersi in marcia anche Jens Giulia, gli altri che non guadagnano, Determination che è messa sotto la pressione di Avelot, questi due che si staccano in lotta, ci prova Jens Giulia, ci prova anche Improved Talk a 200 dal palo, Dario Vargiù prende cattiva la sua, che si riprende e torna in vantaggio con Determination in lotta con quattro cavalli, Jens Giulia che svetta dal gruppo, Jens Giulia contro Determination, le due fin sul palo. Dobbiamo rivedere lo stretto per capire se Determination è rientrata completamente a Jens Giulia o se quest'ultima è riuscita a fare la sorpresa, in religioso silenzio osserviamo. Non è facile, non è facile, ma forse Jens Giulia ha mantenuto un muso di vantaggio e sarebbe un big upset per Determination che era la favorita. Qualora avesse vinto Jens Giulia la quota sarebbe di 41, Qualora avesse vinto invece Determination la quota sarebbe di 1,62 Finale veramente intenso con quattro cavalli in un fazzoletto Proviamo a rivedere per chiarirci meglio le idee Jens Giulia che si è inserita tra Improved Talk e Avelot e forse ha fatto una mega sorpresa Grazie a tutti